Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a questa nuova Baba Live, sono Alessandro Valentino e andremo tra pochi istanti a bordo di un Bavadia 42 Cruiser del 2006 con il nostro Gerry Capozza. Allora, intanto appunto benvenuti a tutti coloro che sono collegati in questo momento, vi spiego brevemente come funziona questa video premiere, che cos'è la video premiere? La video premiere non è nient'altro che un'anteprima, una video visita in anteprima dell'imbarcazione che sta entrando sul mercato, quindi una barca che avremo pubblicato sul nostro sito abayotting.com. E' una barca che ha un incarico in esclusiva, ma direi che visto che vedo che Gerry si è già collegato in banchina ed è pronto, lo farei entrare a questo punto. Allora, una, benissimo, vedo che Gerry si sta collegando, eccoci qua, ci sarà la possibilità di fare delle domande durante la diretta e Gerry ci accompagnerà appunto fra pochi istanti direttamente a bordo di questo bel Bavaria 42 Cruiser doppio timone. E' una barca molto molto interessante, vediamo Gerry, ti chiedo solo di attivare il tuo microfono e la tua telecamera, eccoti qua, buongiorno Gerry! Ciao caro, mi senti? Molto bene, forte e chiaro e vedo che anche il meteo è meraviglioso da te. Io purtroppo non ti sento benissimo, è un problema mio, vediamo un po'. Prova a parlarmi? Eccoci qua, ci senti meglio? Ti sento bene. Ok, perfetto, risolto, piccolo problema della diretta, il bello della diretta. Tecnico. Gerry, ben trovato, ben tornato. Ben ritrovato, caro Alessandro, siamo qui a quest'altra video presentazione di una nostra imbarcazione ed è sempre un bel momento perché questa è un'anteprima, la barca non è ancora stata pubblicata, sarà pubblicata a brevissimo, quindi appena i nostri spettatori vedranno quest'anteprima potranno anche a breve vedere anche la scheda sul nostro sito. Schede, la foto e tutto, è una super new entry proprio. Super new entry, super new entry. Guarda, io sarei... Già, reti direi, allora via, giriamo pure la videocamera, andiamo su... Io girerei la telecamera in modo da... Eccola qua. Eccoci qua. Presentata. Perfetto, allora ascolta, io faccio così, metto direttamente la barca grande per tutti, così diamo focus a quello che è la diretta interessata e lascio la parola a te, Gerry. Ok, caro Ale, allora guarda, Bavaria 42 del 2006, questo è stato un super modello di Bavaria, sono gli anni veramente incredibili in questo cantiere, grandi numeri, grandi risultati, anche a detta dei periti, il miglior periodo costruttivo di Bavaria Yacht. Questo posso dirterlo. Vero, e devo dire che infatti abbiamo tra l'altro fatto, siamo freschi freschi di un'altra perizia su un altro Bavaria 42 che era più o meno di un anno simile a 2005 se non ricordo male, e devo dire che effettivamente è andata molto bene, il perito ha fatto grandi complimenti alla barca, e devo dire che davvero ne abbiamo viste tanti di Bavaria 42 di quegli anni, e grosse sorprese non ne abbiamo mai trovate, ecco, quindi questo è un altro super plus del modello. Assolutamente, assolutamente, sono barche costruite bene, Bavaria è stato il cantiere che ha creato la versione industriale delle imbarcazioni, ma proprio per questo motivo sono tutte ampiamente testate, e tutti i problemi tecnici venivano immediatamente risolti dai super tecnici tedeschi. Salve a bordo, come puoi già vedere c'è una bella passarella in acciaio e legno, bella lunga e comoda, che mi agevola tantissimo la salita, ed eccomi qua nel pozzetto della nostra Bavaria 42. Bene, pozzetto subito che vediamo molto grande. Prepararla oggi perché l'armatore ha una quantità di cuscineria che vedremo anche nella zona, non indifferente, è una super cuscineria bellissima tra l'altro, guarda anche a poppa, in realtà c'è anche quella piena d'acciaio che in questo momento non è armata, però è una cuscineria bellissima. Questi sono gli anni appunto delle barche già col doppio timone, quindi passaggio… E' una proprio delle prime diciamo, dei primi modelli che hanno portato il doppio timone, quindi che hanno liberato il passaggio in pozzetto e reso di pozzetti nuovi, una nuova concezione. Assolutamente, assolutamente, appunto come puoi vedere, posso inquadrare un attimo, c'è la doppia timoneria che agevola tantissimo il passaggio, nel frattempo sto anche alzando la passarella, non ulti sulla colonnina, però ecco questa è stata veramente la svolta dal punto di vista progettuale. Dall'in poi non si è tornato più indietro, anzi abbiamo trovato i doppi timoni anche su barche molto molto più piccole sostanzialmente, anche sui 30 piedi addirittura. Vero, vero, vero. Allora, vado per la prima domanda che mi chiedono già un po' di informazioni, più che altro sulla, proprio visto che siamo in zona timoni e zona timoneria, su quella che è l'elettronica di navigazione. Ok, l'elettronica di navigazione ha tutta la strumentazione Raymarine, più VHF Raymarine 240E, ha un GPS esterno che lui monta all'occorrenza. In realtà ormai sappiamo, utilizziamo tutti i pad o altri sistemi, lui ha un piccolo GPS che monta qui esternamente l'occorrenza. Potrei vedere come è molto comodo la leva del motore, veramente molto facile da manovrarsi, unitamente ai pulsanti dell'elica di prua di cui questa barca è dotata. Hai svelato il primo plus. Assolutamente sì, il primo plus è questa elica di prua, molto comoda per barche di questa dimensione perché onestamente diventa molto più facile manovrarla. Sì, poi è una richiesta oggi molto in voga, devo dire, l'elica di prua. Insomma, è una delle richieste che ci fanno quasi sempre i potenziali acquirenti. Il tavolo, un tavolo comodissimo, con contenitore, è tutto in tech, molto comodo, molto bello, non è il classico tavolo di plastica che puoi trovare anche su altri cantieri di questo periodo, quindi devo dire che è molto bello. Il tech, presente solo in pozzetto, presenta bene, andrebbe soltanto fatto il trattamento estivo, ma insomma, voglio dire, sinceramente presenta molto molto bene. L'attrezzatura di coperta è tutta della Liumar, qui vediamo dei winch da 40, qua addirittura qualcuno fuori del Genoa da 48, così come gli stopper sono della Rugerson. e alberatura a Borgifiocco sono tutti della Selden, che è un'ottima fabbrica di alberi. È la stessa fabbrica che poi fornisce anche alberrarsi tantissimi altri cantieri primari, insomma. Sì, esatto, diciamo quella forse un po' più diffusa, effettivamente. Allora, guarda, da qui vado. Anche il fatto di non avere il tech su Passavanti Tuga, devo dire, è un bel lavoro in meno da fare. Sì, perché sai quando appunto la barca... No, diciamoci, è bello il tech, ma diciamoci in realtà che poi è lavoro. Poi tanto lavoro e soprattutto quando è tanto vecchio va cambiato comunque. Esatto. Comunque, se ha la barca a 20-25 anni, bisogna iniziare già a ragionarci. Ti do le mie prime impressioni. Conosco l'armatore, lo conosco da un po', siamo già alla seconda barca con lui. Devo dire che è una persona che tiene la barca splendidamente. Il suo unico rammarico è soltanto quella di usarla troppo poco. Mi piacerebbe usarla, avere il tempo di usarla di più. Devo dirti che la barca è molto ben seguita, molto ben seguita. Ecco il prendisore di prua. Come? Ecco il prendisore di prua, facciamo notare. Ecco, questo è il prendisore di prua di cui ti avevo parlato. Bellissimo, nuovissimo, eccezionale con lo spessore aggiuntivo alla zona della testa. Insomma, veramente, veramente bella. Quindi, barca, facciamo anche vedere come... Poi c'è la zona dell'Ancora, all'epoca Bavaria montava il doppio musone. Senti com'è tutto pulito anche... Accidente. Beh, conosciamo effettivamente il proprietario, per cui è una sicurezza questo. Questo ci rafforrena. L'attuale è il secondo proprietario e io ho avuto il piacere di conoscere sia il primo che l'attuale. Bene, quindi hai la storia, diciamo, a 360 gradi della barca. Della barca, esattamente. Per quanto riguarda l'armo, appunto, è un armo della Selden, un pangue della Selden, la volgifiocco della Furlex, che è il famoso S300, sì, sì, un super avvolgifiocco anchezzo. Le vele sono Indacron, la randa full button, poco usata. Cosa abbiamo? Abbiamo randa Genoa? Randa Genoa, esattamente. Perfetto. Esattamente. Vang rigido? Vang rigido. Bimini e Capottina, andrebbe soltanto cambiato, se si vuole, il crystal della... Ne abbiamo visto di molto peggio, diciamo. Sì, assolutamente. No, devo dire che magari si fa ancora una stagione. Assolutamente da qui. E da qui è il pozzetto, la visione del pozzetto. Bellissimo. Bellissimo, veramente è molto, molto ampio. Ricordiamo il nostro modello è stato disegnato da Jane Jane. Sì. Da qui entriamo all'interno dell'imbarcazione, dove troviamo una... C'è uno scalino che permette anche di riporre delle scime. Sì. E da qui. Perfetto, ti chiederei di fermarti un momento qua, così diamo una prima occhietta agli interni. La disposizione è quella, è quella appunto classica con la cucina murata sulla sinistra. Mi sembra che lo stato sia veramente eccezionale, sia veramente molto, molto bello. Sì, sì, la barca è molto ben tenuta, non ci sono odori. C'è una centezza pazzesca. Sì, sì, sì. Guarda, devo dire, tu pensi che ci sono ancora tutte le tendine, anche lì potrebbe entrare ancora più luce. Non ho fatto entrare perché altrimenti poi mi arrivano delle macchie di sole, chiaramente che non mi aiutano durante la diretta. Ma ti posso assicurare che di luce, già ce n'è adesso in abbondanza, potrebbe essercene ancora di più. Dinette bellissima, classica dinette a C, con una bellissima tappezzeria. Molto particolare, tra l'altro. Molto particolare, molto piacevole. Molto bella, con un grosso tavolo bavaria, con le gambe abbattibili. Ok, quindi è una gente trasformabile. Bellissima, la zona tavola carteggio, veramente ampia, con vani, cassetti, spazi. In questo periodo hanno fatto anche tutti questi cassetti carbon look. Sì, sì, sì. Qui vedete lo spazio del computerino, l'ho lasciato appunto per darvi idea della grandezza di questo tavolo carteggio, vecchio stile, come si usava un tempo, bellissimo. Cassetti, cassettini, ovunque. Bello, sai quanto io apprezzo la zona del carteggio e avere una zona un po' privata, un po' di privacy per poter lavorare, per potersi leggere qualcosina, è una cosa meravigliosa. Vedi come presenta bene, tra l'altro, anche le parti arrotondate. È molto bello, esatto, molto bello, anche il design è veramente molto piacevole. Qua ci sono i masselli di Bavaria di questi anni, molto belli, guarda qui. Sono tutti in ottime condizioni. Non l'abbiamo ancora detto, il layout, visto che ci chiedono, è un tre cabine con due bagni. Abbiamo detto appunto c'è la diretta trasformabile, quindi in realtà ci sono, si recuperano due posti in più per, come posti detto. Ecco, da qui ti inquadro la cucina, dove ha cassetti e spazi ovunque, due frigoriferi, uno a pozzetto e uno, come puoi vedere qui, con la sua porta in acciaio, doppio lavello, ma anche qui la rubinetteria è stata cambiata. Insomma, devo dire che è tutto tenuto molto, molto bene. Ma si vede, si è davvero bene. Un'aggiunta di un forno. Ah, fantastico, fantastico. Quindi forno microonde anche. Sì, sì. Credo che sia un combi. Spazi tantissimi, ma è una caratteristica di Bavaria di questi anni. Addirittura, cioè, lì dove tu pensi che ci sia, ecco, c'è uno spazietto ovunque. Mella vita. Beh, il caso subito è quello giusto, poi. Non hai sbagliato. Ma quello è l'istinto. Quello è l'istinto. È l'istinto primordiale. Quello è l'istinto primordiale. Non si sa come mai lì troviamo sempre, quindi, le bottiglie di vino. Sempre, il primo colpo. Il primo colpo, esatto. Poi c'è una grande televisione, devo dire, c'è anche, vedremo anche a prua, legni in ottime condizioni generali. Ecco, mi affaccio alla cabina di poppa. Ve ne faccio vedere una perché l'altra è occupata un po' da... Come spesso capita. ...di altri fessuali della bacca, ma sono gemelle. La pezzeria chiara, grande armadio, ripiano dove poter mettere tante cose, altri cassettini, zona per scarpiera. Insomma, ci sono ben uno, due e tre oblò apribili. Più un quarto a scafo chiuso. Quindi comunque c'è tantissima luce, ma soprattutto c'è. Giustamente hai fatto notare, sono un grandissimo ricircolo d'aria. È super apprezzato. Quindi non è una cabina che tra l'altro è altissima, è veramente molto alta. Eccoci, puoi far vedere, Giardi, poi sono le altezze interne, così rispondiamo anche un'altra domanda. Guarda, io... Se riesci anche solo a girare banalmente la telecamera su di te, così facciamo vedere. Vediamo un po' se riesco un po'. Per darti un'idea. Allora, vedi qui quanto spazio ancora c'è, quindi supererà abbondantemente i due metri. Ricorda che comunque chi l'ha progettata è un team comunque di sloveni e tedeschi, e ti posso assicurare che loro sono belli alti. Non sono piccoli. Allora, visto che mi trovo da qui... Guarda che bello, mamma mia, meraviglioso. Bagno di poppa, che ha un modulo fatto in questo modo, labello, lavandino, bc elettrico, e zona separata per la doccia. Fantastico. Il bagno è veramente molto, molto grande. Fantastico. Molto comodo. Vi posso assicurare che è veramente un modello... una dimensione riuscitissima. Continuiamo la nostra conoscenza con questa bella barca. Va bene, poi ci sono un po' di dettagli, dei led che fanno anche atmosfera. Allora, anche qui abbiamo la cabina di prua con... Guarda quanti cassetti ci sono in questa cabina. Sì, sì, ogni spazio è veramente sfruttato al millimetro, al centimetro. Grandi armadi anche qui. Bellissimo questi armadi laterali, c'è una luminosità e si percepisce una... veramente un benvenuto in cabina molto, molto convolgente, molto bello. La luce è molto bella, c'è tanta luminosità, c'è tanto legno, è veramente molto... Bene, da qui si accede alla cabina, al bagno armatoriale, manuale, questo perché c'è una logica chiaramente, l'armatore sa usare un bici manuale, mentre magari gli ospiti è meglio che utilizzino un elettrico, perché è più facile, insomma, più... Sono d'accordissimo con questa scelta e anche la scelta di averne uno e uno non è male in generale in barca. Dove si ferma l'elettrico, il manuale non si ferma mai. Naturalmente, sotto il letto di prua c'è l'elica di prua, c'è il batoio d'acqua di prua e tanto spazio ancora. Ci sono le acque nere? Ci sono le acque nere, chiaramente. Le prechiamare sono state cambiate recentemente, così come la cuffia del self-drive e tra un po' voglio farti vedere anche il motore. Lo sai che normalmente in sala macchina non ci entriamo tanto volentieri, ma ti posso assicurare che questo Volvo... E' a specchio questa sala macchina? E' una sala macchina fatta a specchio? E' senza... No, guarda, l'ho aperto anche prima, vediamo se ci riesco. Anche questa volta, ho fatto anche dei controlli lateralmente. Eccolo qua. Ah, ce picchia. E' di 2,55 è un'altra sicurezza. Dopo... L'alternatore, tutto tenuto proprio bene. Sì, sì, sì. Ma si vede, si vede veramente una pulizia, una cura degli interni pazzesca. Ad avercene di armatori così attenti. Geri, ti sei frizzato forse? Ci siamo fermati sul motore, che è una bella immagine comunque. Ti chiederei magari di spostarti in un altro punto della barca per riprendere un pochettino la linea. Abbiamo detto quindi, il layout interno è un tre cabine e due bagni, come abbiamo visto. Un WC manuale, un WC elettrico. Il WC manuale è la cabina armatoriale, mentre il WC elettrico è quello, diciamo, nella zona ospiti. Con doccia separata, il bagno. Diamo qualche dato intanto in più dell'imbarcazione, mentre intanto Geri si sta ricollegando. Vediamo intanto quando ricomparirà. L'abbiamo proprio perso. Ritorniamo al loro momento in visualizzazione dalla sede centrale. Eccoci qua. Siamo quindi a bordo di questo Bavaria 42. Adesso vediamo di ricollegarci con Geri in Puglia, che vedo che si sta ricollegando in questo momento. Abbiamo detto imbarcazione dove anche un paio di risposte in più, mentre ci siamo e mentre stiamo facendo un piccolo epilogo. Imbarcazione con due proprietari, quello attuale appunto un secondo proprietario, che davvero hanno avuto una gran cura della barca. C'è l'impianto TV interno, abbiamo visto, c'è una TV nella zona della D-Net e una seconda TV anche in cabina armatoriale. Eccoci Geri, sei senza microfono? Ti chiederei solo di riattivare il microfonino che è andato giù anche lui. Mi senti? Eccoci qua, sì. Ci siamo fermati sulla sala macchina, Geri. Sì, sulla sala macchina è andata poi via la linea, si è impressionata anche la... Per fortuna era una bellissima sala macchina. Sì, sì, sì. No, assolutamente lo è, tutto ben tenuto. Dicevo, il D255 è un supermotore della Volvo Penta, ha una trasmissione con cell drive che permette una eccellente manovrabilità. La barca è anche l'elica di prua, ok? Però col cell drive questa barca, posso assicurarvi, si manovra veramente in modo molto, molto semplice. Tra l'altro ha una bella pala del timone, molto efficiente. E la cuffia del cell drive è stata fatta... Ah, ecco, perfetto, scusami, finisci pure. E la cuffia del cell drive è stata fatta nel 2019. Ah, ottimo, ottimo, perfetto, 2019, quindi va avanti, diciamo, ancora qualche anno serenamente. L'elica è una tripa alla fissa, corretto? Esattamente. Benissimo. Che garantisce buone prestazioni a motore, in crociera, insomma, senza problemi. Ma anche in manovra, devo dire, che ha una bella presa. E anche in manovra. Ottimo, l'ancora è una delta, così completiamo quelle che sono un po' tutte le informazioni tecniche che hai dato e che hai raccontato in questione. Ancora è una delta con catena da 50 metri. Devo dirvi, la barca è ben seguita, è un super frigorifero che ghiaccia, perché veramente funziona alla grande. Sono pronti, insomma, per mostrare questa bella. Gerry, ti faccio una domanda, esatto. Oltre a farla vedere, nel caso in cui una domanda per chi si sta avvicinando a questa imbarcazione, c'è qualche lavoro che va fatto prima della stagione, la barca è effettivamente pronta? Sì, potrebbe fare carena, anche se devo dire, a me è sembrato comunque una carena pulita. Guarda, la barca, a vederla così, è veramente pronta per andare per mare, insomma. Quindi lui la segue sempre, l'armatore, ogni piccolo intervento viene comunque subito, un intervento necessario viene subito effettuato, insomma. Tutto quello di cui la barca ha avuto bisogno in questi anni è stato eseguito. Ci credo, perché vedere una barca così ben tenuta, ben curata, non avrei veramente alcun dubbio. Bene, Gerry, io direi che più o meno abbiamo raccontato tutto. Siamo appunto stati a bordo di questo Bavaria 42 del 2006. Siamo in Puglia, Gerry è il nostro referente appunto per la Puglia. Vi accompagnerà a bordo eventualmente di questa imbarcazione, qualora foste interessati ad approfondire. Gerry, oltre ad essere un grandissimo professionista, è anche davvero una persona molto molto perbene e vi potrà accompagnare a bordo e anche accompagnare nel percorso umanamente di acquisto, che è sicuramente un plus. Assolutamente sì. In Abaiotti siamo tutti pronti naturalmente a iniziare a partire col marketing di questa imbarcazione. Il nostro Paolo è già pronto, vedo lì che... È qua che freme, è qua che freme. È qua che freme per già far partire un po' le pubblicazioni, il marketing della barca. Anche io sono pronto, quindi oggi ho avuto un modo di conoscere molto bene questa barca. Bene. Quindi qualora qualcuno fosse interessato a visitare la barca potrà chiamare Gerry. La barca si troverà pubblicata sul nostro sito www.biottin.com. Trovate tutte le informazioni sulla nostra scheda, ci potete scrivere info-biottin.com oppure contattare Gerry ai riferimenti che abbiamo riportato sul sito. Gerry, che dire? Ne abbiamo fatto un'altra. Grazie a te. Ne abbiamo fatto un'altra. Ne abbiamo fatto un'altra. Ci vediamo alla prossima a questo punto, tanto sarà brevissimo. So già che hai qualcosa che hai in servo per i nostri. Se arriva qualcos'altro, già pronto. Bene, bene, bene. Ti aspettiamo allora a prestissimo. Gerry, grazie per la tua super visita e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao Gerry. Ciao. Allora, eccoci qua. Direi che quindi andiamo in chiusura di questa diretta. Grazie mille per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima Abba Live che sarà proprio a brevissimo. Saluti. Grazie mille. Grazie a tutti